Alessandra Mastronardi beccata col nuovo fidanzato, archiviato McCall L'attrice 36N dei Cesaroni sembra aver ritrovato la felicità dopo la rottura con l'attore britannico, ecco con chi Alessandra Mastronardi ha un nuovo amore? La risposta a questa domanda, a quanto pare, sembra essere affermativa L'attrice dell'allieva, fresca di rottura con il promesso sposo Rose McCall, sembra aver ritrovato il sorriso tra le braccia di un altro uomo Ecco di chi si tratterebbe e quali informazioni sulla nuova fiamma dell'attrice ha raccolto il settimanale Diva e Donna Alessandra Mastronardi non è più single. A confermarlo arriva, con tanto di foto che lasciano poco spazio all'immaginazione, Diva e Donna Il settimanale ha immortalato l'attrice 36N mentre cammina per strada, ridendo con un sorriso a 32 denti Al fianco del suo nuovo partner. Lo scatto è stato pubblicato sul profilo Instagram del giornale Secondo l'attestata giornalistica non ci sono dubbi, non si tratta di una semplice passeggiata tra amici o conoscenti A conferma di ciò c'è la foto che appare nella copertina del nuovo numero del settimanale, in uscita il prossimo 3 maggio 2022 Questa ritrae la Mastronardi mentre bacia appassionatamente la sua nuova fiamma Diva e Donna, che ha confezionato in esclusiva un servizio fotografico sulla nuova coppia Ha dato anche qualche informazione sull'uomo che ha fatto breccia nel cuore, da poco spezzato, dell'attrice nata a Napoli A quanto pare il nuovo compagno della Mastronardi si chiama Gianpaolo Quest'ultimo, dai folti capelli scuri, farebbe il dentista di professione e sarebbe molto conosciuto nella capitale La diretta interessata, per ora, non ha ancora confermato ufficialmente la relazione Alessandra Mastronardi volta pagina dopo la rottura con McCall Molto probabilmente la 36enne vorrà aspettare prima di fare sul serio, visto ciò che è successo con lo storico ex Erosi McCall La Mastronardi è stata legata all'attore britannico, con il quale aveva programmato di sposarsi, per ben quattro anni Poi, nel gennaio 2022, i due si sono improvvisamente lasciati, cancellando il matrimonio L'attrice dei Cesaroni, in quell'occasione Si è infuriata con le male lingue che hanno speculato sulla rottura insinuando fosse stata causata da un tradimento di lei La Mastronardi si è così sfogata nelle sue storie Instagram, smentendo tutto Qualche mese dopo, ad aprile, la 36enne ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera di essere un tipo da storie lunghe Affermando di volersi guardare intorno Resta da vedere se l'attrice, che risiede da anni a Londra È davvero pronta ad iniziare una nuova, solida, love story con Gianpaolo o si tratta di un flirt?